Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro Unwalker di fiducia. Eccoci oggi all'immancabile appuntamento delle uscite di Game Pass per quanto riguarda la seconda metà del mese di agosto e l'inizio del mese di settembre. Prima di passare al cuore del video, vi ricordo che questa sera alle ore 20 ci sarà la opening night live della Gamescom che seguiremo insieme sia sul canale youtube, secondo canale youtube Rewalker Live, sia sul canale twitch Rewalker Official, quindi ci vediamo in live questa sera perché sicuramente potrebbero esserci delle sorprese. Ma prima di passare al cuore del video ovviamente iscrizione e campanellina se non l'avete già fatto, un bel like per supportare il capitano, detto questo non induciamo oltre, let's go! Innanzitutto a partire dal 21 agosto arriveranno tre nuovi giochi su Game Pass Core che arricchiranno il catalogo già presente finora. Il primo è Cities Skylines, il miglior city builder presente sulla piazza della generazione Xbox One, che purtroppo è anche l'unico visto che Cities Skylines 2 uscirà su Xbox nel 2013. Il secondo è Control Ultimate Edition, cioè il pacchetto completo del capolavoro di Remedy e incluse anche le due espansioni The Foundation e O, il tutto graficamente potenziato per le console Xbox Series. E il terzo è SnowRunner, titolo che ci metterà alla guida di 40 giganti della strada diversi, per poter compiere delle consegne merci in ambienti quantomeno ostili e dove il restare in strada sarà una vera e propria impresa. Provateli tutti se non l'avete già fatto perché sono uno più figo dell'altro. Partiamo adesso con le vere nuove uscite, partiamo con il giorno 22 agosto, quando arriverà Atlas Fallen, action-adventure RPG open world arricchito dal recente aggiornamento gratuito Reign of Sands, dove è stato messo un nuovo doppiaggio, una campagna rielaborata, la modalità cooperativa, un sacco di nuovi contenuti in-game, sia per quanto riguarda i nemici che l'equipaggiamento, e la tanto attesa modalità di difficoltà New Game Plus. Titolo che giocai al suo rilascio avvenuto circa un annetto fa, ma che negli ultimi mesi e con gli ultimi update ha davvero cambiato faccia. Se avete qualche amico interessato, con la modalità co-op, sembra davvero un prodotto molto più che croccante. Dategli un'occhiata e poi fatemi sapere. Giorno 27 agosto per Core Keeper, un'avventura sandbox dove ci risveglieremo nei panni di un esploratore all'interno di una caverna dimenticata che cela numerosi misteri, come sempre. In questo titolo, che potrà essere giocato anche in multiplayer, fino a 8 giocatori, saranno le scelte che compieremo a plasmare il nostro viaggio. Otterremo reliquie e risorse, creeremo strumenti avanzati, costruiremo la nostra base ed esploreremo un mondo che si evolve dinamicamente. Avremo anche abilità da livellare, titani leggendari da sconfiggere e misteriosi poteri da svelare, ma potremo anche coltivare il nostro orto, pescare, che quindi è già un game of the year, cucinare, allevare animali e chissà cos'altro. Io ve lo dico perché l'ho adocchiato dal suo annuncio per Game Pass. Attenzione a questo titolo perché rischia davvero di diventare un giochino droghino. Vi ho avvisati, eh? Ocio al batocio. Arriva anche la open beta ad accesso anticipato di Call of Duty Black Ops 6, dove potremo mettere mano al prossimo titolo della saga di COD in qualità di abbonati Game Pass. Potrete prescaricare la beta a partire dal 28 agosto 2024 e avere accesso dal 30 agosto al 4 settembre. Avremo la possibilità di provare l'Omni Movimento, che arriverà per la prima volta in questo capitolo, esplorare nuove mappe multiplayer 6v6, provare nuove armi, nuovi gadget e infine ottenere ricompense nella beta, che poi avremo in Black Ops 6 una volta che il gioco verrà lanciato il 25 ottobre. Questa è la open beta early access, quindi solo per i preorder e gli abbonati di Game Pass Ultimate e PC Game Pass, mentre tutti gli altri potranno provare gratuitamente la open beta open per tutti, a partire dal giorno 6 settembre fino al 9 settembre. Ultimo titolo dell'Infornata è un Day One Game Pass e si tratta di Star Tracker, dove saremo la guida di un autotreno con propulsione a razzo, trasportando merci, cercando materiali di recupero e interagendo con altri camionisti. Mentre saremo sulla strada interstellare, potremo usare la radio CB interattiva per ricevere le ultime novità e i più piccanti pettegolezzi dagli altri camionisti, richiedere autorizzazioni di attracco o inviare richieste d'aiuto. Potremo passare dalle officine per potenziare e migliorare i sistemi del camion, che quindi ci daranno accesso anche a missioni più remunerative, ma al contempo più pericolose. Avremo nuove rotte commerciali da aprire, ma al contempo dovremo anche mantenere il nostro mezzo in buone condizioni, riparandolo se si ammacca, sostituendo i pezzi che si danneggeranno, per evitare di finire il carburante e i livelli di energia e quindi dover chiamare il carroattrezzi. Titolo molto curioso che offre uno strano mix fra il chill e il gestionale da provare. Ora passiamo al secondo blocco dove vedremo i titoli che lasciano il Game Pass il giorno 31 agosto e a questo giro abbiamo Atomic Heart, Guilty Gear Strive e NBA 2K24. Tralasciando il titolo del basket, se siete i mega fan dei picchi a duro, ovviamente andate a recuperarvi immediata subito Guilty Gear Strive, che sarà senz'altro nelle vostre corde, altrimenti comunque date un'occhiata ad Atomic Heart, titolo che ha luci e ombre, ma che secondo me è comunque meritevolissimo di essere provato quantomeno prima che abbandoni il catalogo. Non è una roba iper lunga e si può finire in una ventina di ore di gioco, quindi magari nella decina di giorni che vi separa dal suo addio al Game Pass, potreste farcela anche a terminarlo. Benissimo People Quest, questi sono i titoli in arrivo per la seconda metà di agosto, mese tutto sommato dormiente, anche se secondo me le uscite sono tutto sommato carine, cioè senz'altro Core Keeper l'avevo già tenuto d'occhio da diverso tempo, Star Tracker non è proprio My Cup of Tea, però vabbè ci può stare, Atlas Fallen lo giocai ai tempi che furono all'uscita, ma adesso come vi dicevo il gioco è stato completamente ribaltato, è stata rilavorata la campagna, ci sono nuovi contenuti aggiuntivi inclusi ovviamente nella versione di Game Pass e poi vabbè a fine del mese, insomma alla fine di agosto, tempo una settimanella, parte la open beta per gli early access di Black Ops 6 che ovviamente è il piatto forte per quanto riguarda le uscite prossime, almeno quelle più mainstream. Ecco, in qualsiasi caso ditemi voi che cosa ne pensate di queste uscite, giocherete qualcosa, andrete a tutta birra verso il backlog, verso lo smaltimento di alcuni titoli, specialmente perché poi se date un'occhiata al rune calendario sul mio sito vedrete che cosa arriva a settembre, ma non so come faremo, in qualsiasi caso vi aspetto come sempre nel box dei commenti qui sotto che a vostra completa disposizione, ci vediamo questa sera all'open in night live e comunque giovedì per i prossimi contenuti su questo canale non mi resta altro cavurati, come sempre. Buon divertimento gamers, alla prossima!